registrazione video full hd a 60 fotogrammi per secondo Pocophone f2 pro probabilmente la full hd a 60 fotogrammi al secondo è la migliore risoluzione attualmente che si può utilizzare zoom 2x zoom 4x un po più di 4x e zoom 6x anche in questo caso un po di rumore c'è la stabilizzazione migliore della registrazione 8k a 30 fotogrammi per secondo non proprio ottimale la messa a fuoco consideriamo che sto realizzando comunque il video in non proprio con la luce del sole ma siamo quasi come si vede cioè il sole sta tramontando anzi forse si vede meglio da quest'altra parte registrazione video full hd a 60 fotogrammi per secondo Pocophone f2 pro